Andiamo avanti, Marvel Snap, yo Marvel Snap, sto bello carico a manetta oggi Voglio fare bei content, belli precisi Anche perché ragazzi, di solito ci gioco sempre a Marvel Snap Quando sto per andare a dormire Planet Cioè alla fine Marvel Snap, secondo me, è figo come gioco Peccato che non piace un cazzo di nessuno su Twitch No, non è che non piace un cazzo di nessuno È che come lo porto io non piace A parte che è un gioco Ma che anche, c'è il suo perché Eh, per carità di Dio, non metto in dubbio Ma... Ci vuole un po' di tempo per... Oddio, dimmi che c'ho i soldi, ti prego Ok, ci abbiamo... Werewolf C'è il lupo e basta Ciao ragazzi, c'è nessuno? C'è nessuno? Vabbè, lo scrivo qui C'è werewolf Eh, ma so coglione Se scrivo, vabbè, gli scrivo a... C'è questa carta È buona? Fammi sapere Ok Ma io non lo so ragazzi Iniziamo a fare tipo una modalità conquista? Cos'è che non ti piace del gioco? Preferisci non ti piace perché è un mazzo... C'è un deck No, un deck perché magari non ti piace Oppure perché ci stanno altri motivi alle spalle Con scar, ok Un deck con scar Devo fa' A me piace un sacco Ah, allora scar Con scar Fammi vedere Vabbè, con scar e con blob Con blob non ce l'ho Dio, magari Wanted C'è scar Red school Sauron Shuri Ci sta parecchia roba Essendo che ci stanno pure molti destroy Secondo me questo qui è buono Come roba Come deck Vediamo Anche se io non so Un... Un esperto Autospec Vai, annome Matteo, ma è possibile? O è mai capitato che un gioco chiuso riapra? Di solito no Per esperienze personali no Ragazzi, voi dovete capire che dietro a un gioco ci stanno delle spese enormi Dietro a un gioco ci stanno delle spese che uno non si immagina nemmeno Quanto costa, secondo voi, mantenere i server di un gioco? Secondo voi Al mese Lì si parla di centinaia, di migliaia, di mila euro Poi Non considerando il costo per Crearlo il gioco E lì si parla di milioni Milioni Eeeh Se hanno deciso una cosa del genere così estrema Significa che veramente Cioè, stavano veramente sotto Alla scoperta Rimuovi Le abilità della prossima carta che giochi Ma questo io non so come funziona Rimuovi la prossima Ma ne rimuovi due? O due volte La rimuovi Ne rimuovi due L'effetto fa per due Quindi rimuovi le abilità della prossima Quindi due carte O La prossima carta due volte Ora non so Per vedere Si chiama Un tuppet Un tuppet Mio dio Questo che era Shuri Ah, questo qua che raddoppia Mio dio No, fermate Che cazzo è? Allora Meno uno Allora Effetto continuo Meno uno forza Tutte le altre Ma io penso che Devo fare una cosa del genere Devo Per forza Cioè Troppo forte Per forza E' un po'? Ok E qua ho perso, per forza, 100% Come cazzo faccio qua, p***e? Ah, ho sbagliato, non dovevo fare la video per nera Dovevo fare tipo Trust Master No, nemmeno Non potevo vincere mai nella vita Allora, per vincere qua E non si vince qua Perchè? 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 Secondo me non c'è nessuno che gioca Non c'è nessuno che ci gioca, secondo me Però non sarebbe male come idea Perchè? Grazie a tutti. Allora, vediamo un po'. Qua passiamo. Ci abbiamo Sauron. Sauron non è male. Rimuove tutte le abitità che hai in mano da quelle del tuo mazzo. E qua è tipo alla scoperta. Qua è in mano. Devo chiedere, dici? Ma... Un torneo, non penso che ci sia... Ripeto. Non penso che ci sia qualcuno che gioca... Io penso che fa un, due... Carico qua. Penso che è una cosa così, in teoria dovrebbe essere binta, in teoria. Porca troia, Iron Man. E qua in realtà non è detto, eh? Non è detto perché in realtà... Ok. E non era detto, eh? Non era detto che vincevo. Perché in realtà mi è andata molto bene. Molto bene è andata. Allora, vediamo io. Giochiamo ancora, vai. Sto deck non è che mi piace tanto, però è, vabbè... Per fare missioni. Non penso che sta pure a tre di nuove prova. Molto meglio. Arrivo, vado a prendere i biscotti. Dabbino, in minuto! E? E la figa della madonna. Che è qua? Gambane. Biambo. Biambo. Magari è un Killmugger deck Quindi ho messo quello e via Ma andiamo bene Allora Enchantress Jeff, al Cristo Dio No, porca, troia, me sono sbagliato Me sono sbagliato, vabbè Porco di diabo, Dio Però poi in realtà c'ho doppia Doppio Thrustmaster lì che copia Un 28 diventa 28 più, vabbè in teoria Non è raddoppiato Orco Dio Ho sbagliato io qua Vabbè Ho sbagliato io, non conosco il deck Non conosco le carte Vado a prendere i biscotti così a me non mi concentro Arrivo Vabbè Vabbè Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao stronzo. Piede sta in gendress e sotto i denti qua su un pisellone. Bye bye. Ciao ciao. Yeah. Ma che cazzo di deco è? Animated. Bye bro. Ciao, buongiorno. 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 Cioè, praticamente non posso tirarla. Oh, snap. Vai. Oh, che coglioni però. Oh, mesci sempre quello mesci. Oh, mesci sempre quello mesci. Oh, ma cagato il cazzo. Buongiorno. 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 Qua diventano 14 Ho perso No Che cazzo è Perché ho perso Non ho capito Come cazzo ho fatto a perdere scusa Non ho capito Non ho capito un cazzo Boh Dovevo Ma in torriera era persa questa oh Ma era persa oh Con scarra con scarra devo vincere altre 4 5 6 partite 5 partite Onestamente ragazzi non capisco Come cazzo Ti faccio una bomba? Beh oddio Se vi hai vincitato in mia eccepente significa che ti piace Altrimenti non verresti qui a scrivere queste puttanate Bestemmio? Porco dio Opponent snappi Come cazzo è Come cazzo è Oh Cazzo questo è greve Eh metto a centro Non pensavo, pensavo che era solo Che non potevo giocare a car Non potevo giocare a quella carta Dopo 8 turni Non potevo giocare a carina In teoria facendo così Ah però aspetta Lui non ha ancora scartato quello lì Quindi forse Ce lo facciamo E un po' Ok No? Cazzo Peccato Peccato Cristo Gli aveva scartato apposta quella lì 50% Però peccato che 12 più 25 12 più 25 Fa 37 Più 6 E lui ci aveva più di 40 Porca troia Che sfiga Vabbè Dai ci sta Devo ragionarle un po' di più Ste cose le partite qua Allora No te lo spiego perché ho perso Perché quando Opponent snapped Ma questo già è sicuro di vincere Allora quando tu praticamente Pareggi Due campi su Cioè pareggi un campo E poi gli altri due Uno Uno e uno Si fa la somma di tutti quanti I punti Questi qua Se sommano Questi e questi E chi c'ha più punti Vince Per quello Forge Ok un destroyer Cercate di capire Dove giocherà Secondo me lo giocherà al centro Questo Porca Eva Ah è vero Perché dopo Lo deve essere la farombe Non è che nabbo Guarda là che culo Oggi ho perso Ho sbagliato Ho giocato Con i piedi Ma Un 16 E vai al centro Chittana mamma Dai Due Ho perso Rimane bombato Quindi 18 Più Ok Non è detto Ho perso Però Secondo me Ho perso 100% Dovevo Sto attento E non sapevo Come funzionava Le carte Di nulla Cavallo furioso Già Non sapevo Ma musica 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 allora solo che sto deck mi fa proprio schifo sto fare questo ma musica 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 no 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 sbaglio io musica 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 si potrebbe anche snappare qua musica 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 Vabbè qua metto quello Non lo vediamo Metto Sauron lì Non lo vediamo Dì almeno Vosto spostato dove voglio Vabbè Non puoi farsi errori Mi sono sbagliato Tu tanto gioco a Endale no? Viene spostata verso sinistra Ste puttanate qua Fa Io in teoria Se faccio una cosa del genere Che sposto qui così Poi viene spostato tutto Sì verso sinistra Come posso perdere così? Non lo so Deve spostata Deve spostata Poi E mettere Boh Non lo so Che marchigine Deve fare Vabbè No 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 Vabbè GG Pensavo pure le mie Niente Devo concentrarmi Sì sì Ancora sveglio Oh no 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 E qua te l'ho aspettato Devo avuto che Un bello sauron qua Qua non posso fare niente purtroppo Devo aspettare Il tuo avversario pesca una carta Beh fargli pescare due carte Non sarebbe male dopo Sembra quasi fatto apposta Le carte già in mano Beh il centro credo che sia vinto no? Penso 28 Questo funziona due volte no? Credo Dovevo far questo prima Giocava a Farkon Rimaneva inculato questo Che cazzo Il centro è vinto Il centro era vinto per forza Dai che cazzo Il centro era vinto per forza Come facevo a perdere il centro? Troppo forte 5 su 8 Altre tre partite Con sto mazzo di merda Devo vincere Ok Io vado buona stream Ciao Nikox Ciao ciao Bello ciao Bacione pure a te Tier 3 Ciao bello Buonanotte Ciao bello Domani allora Ciao bellissimo Grazie grazie Mi fa sempre piacere Ricevi commenti De sto tipo Allora passiamo Ripasso di nuovo Urca Bonus Di 4 Ok Faccio una roba del genere Ok Ero Motto Matto Di 1 Buonanotte Allora Sai che è la forza di tutte le carte Posizionate qui Io ne ho impostato a 3 Metto questo che lo posso spostare a destra e a sinistra E poi dopo in teoria Trustmaster Credo Trustmaster Così copio la forza di quella L'energia Questa la posso Mettere il cazzo L'olio Anzi Red school Ok No ti prego Per uno Per uno Questa è la forza di più La variante Dai a33 game Ciao cavallo furioso Ok Dai vediamo un po' che cazzo gioca l'opponent Huntman Huntman Quindi potrebbe essere Un deck particolare Molto particolare Questo dio Non è sicuramente un po' che cazzo è la forza di più Ok Ok Questa non è male qua La metto lì Almeno Almeno c'ho parecchie robe C'ho questa qua che si sconta Questa è la forza di più Allora Questa che cazzo era la scoperta di più Forza Le carte Che potete di qui Su un effetto continuo Oh Io lo levo Una madonna Se io lo levo Allora Più tre forza Ok Vai vediamo un po' Faccio così perché qua glielo levo Glielo levo tutto Glielo levo qua Non so se basta però Ma c'è Credo C'è A voglio se basta Io sollevato le robe Lì A costo uno Basta Basta Una madonna Ok Allora Quante altre deck devo fare Quante altre partite vince Dio Cristofalo Altre due Vai Altre due Yo E questa E questa non era Difficilissima ragazzi Voi sapete Voi sapete giocare A marve snap Sapete cos'è Marve snap Ho proprio Zero Non c'ho proprio Una community Che gioca a marve snap Però Il problema Ah dal day 1 John way lord Sto deck Non è male Allora noi possiamo mettere Tipo Tutte le carte Dopo il quarto turno Vanno Verso destra Noi possiamo mettere Zero Che comunque non è male Lizard Turno 2 Shuri Poi turno 5 Poi turno 5 Poi turno 5 Io qua snappo C'ho una mano dipinta Col pennello Qua mi piace Turno 1 Se ci avete consigli E robe Voi ditemelo In chat Io accetto Tutti i consigli Perché non la corda Io Leggo tutti Tra i più facili Dici? Mmm Non direi Adesso qui Ok Ok e ma questo è una roba eh gioco questo al centro red school poi taskmaster beh un bel 56 c'è il suo perchè un bel 56 inizia ad avere il suo perchè ma io lo metto a destra taskmaster questo qua si ritira vabbè easy gg ha capito che ha perso vabbè meglio così meglio di niente troppo forte troppo 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 forte un'altra partita con sto deck devo vincere e via il tempo di capire come funziona il deck che poi vado una grande ma anche questo hang perdeva a a a a a a a Grazie a tutti. 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 I am Iron Man. Grazie a tutti. 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 Non male. Non male. E poi dopo gli faccio Drusk Master sopra e zero. Si, si, faccio Drusk Master che copia Red Skuller. Vai, 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 vai. E' morto. Si, si, faccio... Si, faccio... Si, faccio... Si, faccio... Si, faccio... Eh infatti dopo ci ho ripensato Ho detto meglio mette prima Eh perché dopo metti caso che porca Va veramente Questi gold mi piacciono 21.000 ce no Allora qua che dice gran maestro Gran maestro non ce l'ho io Ma conviene comprarlo Dice che è una carta di merda Gugli dice che è una carta Non è proprio di merda però Meglio tenersi di sti soldi dice Oh la variante di Angela è figa proprio Ma non ne vale 5.000 secondo me Double trap Ma Allora Ci facciamo una modalità conquista C'è una marea di ticket Una marea Ma si dai Proviamoci Almeno vediamo come fanno I deck le cose I deck sugi Allora 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 Forge, vediamo un po', possiamo top the car Carnage Carnage Sì, vediamo un po' E io fa Death Rock e fu sopra, vogliamo Minchia Ma se faccio una roba del genere Nuff said, bub E qua non è Non è facile In realtà è tutto sul 50% Però mo' vediamo Se va su con un l'ho vinto GG Na madonna Metto Metto la madonna Metto giù GG Ti prende buono Sì 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 Esatto Ti prende buono Tanto se prende carne Giocai Ma in realtà non so se vince Qua viene così Qua si snappa Sempre Sempre Allora dopo questo turno Se mette dentro la rimzola Pure ci riempie De x23 Che è In realtà In realtà è già È brutto Però Buono Dipende da quello che sta Qui viene fuori a lui E non lo so in realtà Perché Non so se potenziare il carnage Ma non credo Vediamo un attimo quello che viene fuori Perché noi abbiamo tutti i drop da 90 Dentro Troppo bene fuori Non so se potenziare il Porca Eva Qua non è bello Perché qua mi rimuove x23 Mi rimuove Cioè Se si sposta qua Cazzo Se poteva come un campo Orribile Orribile Cazzo 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 Lo sapevo Ma no? Ah Que si sposta No? 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 Poi Zola lo faccio qua All systems go Ok ci ha ritirato Posto Preciso Bello Bellissima mano Bello forte Dai io Carnage Ok Meglio Carnage o Venom Ma secondo me Venom pure Non è male Diventa bello grosso Poi dopo lo posso rompere con Zola Ok Anzi no Meglio così almeno C'è tanto Adesso C'ho sette di mano Mi ritorno in mano Sto 24 Lì Come faccio Verde Come posso Verde Non posso Ok quello è vinto GG All hail Hydra Ah 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 non potevo perdere Come non si vedono Non si vedono Allora battaglia numero due Vai L'ho mandato off quello No allora secondo me come Come dè che è figo Ah è vero è vero è vero non ti vedo Allora qua devo rimediare Ok Allora qui Ma Dopo che giochi una carta qui assegna la sua forza a due Fa una merda Cristo Porte 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 Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Possiamo fare nulla. Quindi questo qui non prende effetto continuo. In teoria. Distrugge tutte le carte non scoperte avversari posizionate qui. In teoria. 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 Ok. Uno da parte Uno da un'altra Ok si è ritirato Gli spaccavo Spaccavo che nulla diventava 50 70 cioè proprio era Enorme enorme Zola Elliot Destra Ma io non ho capito Elliot che cazzo Il Gart è onestamente Vabbè Comunque si è reso ho capito che ho perso Era vinta per forza Si si per forza Era un 46 46 46 46 dalle altre parti Era vinta per forza dovevo mettere Forge a sinistra Così almeno potenziavo Tipo un punto Un punto a sinistra Almeno nel campo lo vincevo con un punto Forza Era per forza vinta Ok Si che voglia Si 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 però devo avere priorità io Priorità ce l'avevo quindi Alla fine ci sta Allora Buongiorno Cristian Beh porto pure qui Grazie a tutti Ok si è ritirato L'opponente vediamo Ok l'avversario si è ritirato Dai eh Appena vede x23 sul campo che si distrugge Dice cazzo questo qua Forza persa Guarda che cazzo fa Sto oponente Oh Cristo Oh Cristo Oh Oh Cristo Ho Buono, gazzo Ok Ok Nel mio mazzo Quindi in realtà Vai 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 Non mi vengo nulla Grazie Ma questo ha perso Cioè non so se riesce a capire Che ha perso questo Cioè io ho Arimzola Adesso non cazzo Non lo so Non lo so Vediamo che sempre entra Una da una parte E uno dall'altra Ciao bello Ci serve da Pasqua DG Guarda te che stai gioca Di timpa Perché? Eh lo so Lo so Infatti oggi Mi sono addormentato al lavoro Poi mentre stavo a fare RP Lì Dio Cristo Mi sono addormentato Porca puttana Ho fatto una figuraccia Da merda Ah solo tre Ok Dai Grande Metti strong Ti piacciono? Grazie mille Grazie Ti piacciono Ti piacciono Voglio Quasi snappa Snap Prediction Nonna Eh tra poco Tra poco vado Tra poco Tra poco vado Tra poco vado Ti piacciono 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 Allora io qua faccio quello Allora io faccio Buono Buono per modo da dire perché io dopo non riesco a mettere nient'altro Come serviva x26 lì Allora io faccio Allora fammi un attimo capì Qui al centro vengo così e ci sta Ah ok si è ritirato Perfetto Le ritirato meglio Meglio così Meglio così Perché a destra tanto perso è inutile andare a contestare a destra A sinistra il centro Dovevo contestare Perfetto Vediamo un po' Buono Passiamo Turno 2 Metterei Wolverine Qui Al centro Vediamo un attimo quello che trovo Perché in realtà non lo so La prima carta che Venha lì Ah E si è esposta E lei Poi Vabbè Vediamo un po' Basta su Wolverine Te prego E' perfetto Basta su Wolverine Dai Bello Bello Questo mi piace Dieci 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 Proprio Ma Che dopo il meno dieci E' un po' una merda Cioè è meglio spaccamme Sta roba qua Almeno diventa Venti Nulla Grosso Enorme Dio Cristo Diventa Gesù Oh Oh Vedi qua Delle porte Faccio un bel look Nulla Un po' una merda Un po' una merda Un po' una merda Che modo vince Che modo vince Non può Esatto Knull Prende meno dieci Se metto il quattro dieci Il problema è quello Perché se metto Meno dieci E poi meno dieci E tanta roba Troppo esagerato Vediamo un po' Shang-Chi E Grazie Ok ma come cazzo posso perdere qua Ho pure trovato il coso per il centro Cioè avevamo tipo un Un centodieci Centodieci Cioè era troppo forte No veramente Era veramente troppo forte Cioè quello lì Sessantacinque Era Centotrenta Centotrenta A sinistra Cento Centocinquanta A destra E undici Uno undici Era dieci Al centro Cioè vincevano tutti e tre i campi Tutti e tre Porca bestia Se è forte Allora Enrico 888888 14 mesi di resab Grazie mille Bellissimo Grazie Eh oh Si è ritirato Si Snap Il bar di Luke Il bar di Luke 4316 Ciao Ciao Ixvelli Bello Bello Hulkbuster Deadpool diventa enorme Divento tipo Gesù Deadpool Con nulla alla fine Io ho pure X2 3 No non penso che posso Perdi in qualche modo It's clobbering time It's clobbering time Non si può Perde Impossibile C'ho 7 di mana Ragazzi 42-42 Da una parte Come cazzo Come cazzo posso Perde Impossibile Non si può Impossibile Infatti Victory Sto mazzo è top E' una madonna E' una madonna Se è top Cazzo E questo qua E' una madonna E questo qua è pure grosso E questo è grosso Deadpool Poi dopo che distruggevo Questo ne mettevo Uno qua e uno qua 42-40 Cioè non posso Perdere Che fa Hulk qua Che fa? Hulk qua Ma Grandmaster Che cazzo fa? Non ce ne vai a f*** Ogni tanto Ti ringrazio Cioè è snappato pure lui? Ma tanto è matematica Che una partita Su ogni tot Bisogna perderla Quindi Cioè non Dopo che giochi qui Una carta Mescola tre rocce Ne tuo mazzo Ah Io le voglio le rocce Mazza che belle Oh Ottomana Ottomana Porca troia Sì 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 A voglia A voglia Salucantera Eh Su deck Non è malaccio C'ha magic Mike evoluzionario C'ha C'avrà Hulk Qui a destra Bello forte Poi c'ha Questo qua Che mette Tipo Google Tutti quanti I campi Quindi ti mette Debris Poi Se c'hai tre carte Non puoi mettere Altri rabbe E non è malaccio È proprio It's clobbering time It's clobbering time It's clobbering time It's clobbering time Tantenta Tanta Il 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 E' un po' Metto death al centro Poi me lo magno tutto con Venom Se riesco Ok Bastardo figlio di troia Ma che cazzo è? Anni Anni gay? Oh porca troia Ma io sta roba non l'ho mai vista Sta combo Vabbè Non sto fissando il pc da 40 minuti Non riesco a studiare Dai 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 No 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 Sta roba no Zero ansia Dai dai Sì sì devo andare a dormire Sì Qua non lo so se è giusto Prende tipo Mo vediamo Non mi piace Per due mani in più Posso aspettare Venom in teoria Prende la forza De questo qui Quindi qua Mo vediamo un attimo Dove va Questo coso qui Comunque Due Quattro Sei Mo vediamo Buono Ma tutto Quattro No, 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 no. E qua tanta roba perché mo dopo gli faccio tre, sei, nove, più... C'ho altre robe qua da... Dopo gli armagno Venom, con Venom gli armagno quello. Perfetto. Ah, non faccio un tempo. Non c'ho... Va bene. Per lì diventi gigante. Potente. Allora, io questo lo posso fare tipo così, le faccio. Da, magna qua e magna del là. Oh, è qui. Vai, vai. Magna del qua e magna del là. Poi vediamo. Allora, ok, lì ci metto questo. Spacco Venom. Certo, Shang-Chi mi farebbe quasi un po' paura, però... Shang-Chi c'è ne ha uno solo, eh? Non è che c'è ne ha due. Non è che c'è ne ha due. Appunto. Di Shang-Chi c'è ne ha uno. Da una parte vingo e dall'altra pure. Cioè qua... Non lo so come fa l'oponent a vinge qua. Gigi! Eh, dei Shang-Chi ce ne aveva uno solo, ragazzi. Non è che ce ne ha più di uno, eh? Cioè, i Shang-Chi prima o poi finiscono, cazzo. Prima o poi. Va bene. Infinity Ticket è bello, preciso. Bello. Porca troia. E ce ne abbiamo quattro dei Ticket. E mica almeno ci sono fatto caso. Quattro Ticket Infinity, raga. Quattro Ticket. E ci abbiamo altri sette Ticket da usare qua per le drif d'ingresso. Un macello di roba che possiamo fare qua. Ma soprattutto qua io mi posso prendere tutti questi che non so male, eh. Variante misteriosa. Che ci abbiamo qua? Potenziamenti. Ma questo non serve un cazzo. Gli oro non... Eh, forse mi prendo gli oro. O gli oro o i crediti. Ma io mi sa che mi compro i crediti, te lo dico io. 250 crediti. Ah, ne posso prendere uno solo? Ah, uno solo di tutta sta roba? Ah no, lo sapevo. Che cagata. Solo uno di questi. Poi, tra un giorno, se sblocca... Posso prendere sta roba qua. Ma questa è figa. Pensavo meglio, onestamente. Allora, qua, questo qua lo posso fa. Vinci... Tutti e tre... Eh, difficile, impossibile. Come cazzo faccio? Mi servirebbe un... Un mazzo... Tutti e tre i gambi devo vincere. Difficile, cazzo. Beh, con l'aicoluzionario, dico. Ha pucciato Luca Narino stanotte, dici? Questo invece tra un giorno cambia pure questo. Quindi, perfetto. Vabbè, domani le faccio. Ragazzi. È arrivata una certa. Io vi saluto che mo' stacco che... So stanco morto. Vi saluto. Sì, sì, col tribunale però non ce l'ho. O il tribunale. Vi saluto. Oh, stanotte mi sono sentito male, porca puttana. So... Mi sono messo a dormire stanotte. Ragazzi, mi ha preso un...